I carabinieri della stazione di Trapani hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 43 anni in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento emessa dal locale tribunale. L'uomo in passato era stato sottoposto dai militari dell'arma al divieto di avvicinamento ai genitori a seguito di continue minacce e richieste di denaro presumibilmente utili all'acquisto di sostanze stupefacenti. Da una serie di violazioni alla predetta misura documentate dagli operanti, la sua posizione si è aggravata grazie all'emissione di un nuovo provvedimento sommato al precedente dove gli è stato imposto il divieto di dimora nel comune di Trapani. Le continue violazioni documentate dai carabinieri di entrambe le misure hanno portato all'emissione dell'attuale provvedimento che vede l'aggravamento della posizione con l'applicazione degli arresti domiciliari. Pertanto, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato tradotto presso la propria abitazione. Grazie.